Franceschina, la tua sensibilità è conosciuta. Sappiamo quanto guardi alle persone indigenti, alle persone che sono in sofferenza e questa presentazione del libro oggi nel castello di Cacuri è un altro segnale che bisogna guardare all'altro diversamente. È una cosa che io ho maturato ovviamente negli anni e in seguito al viaggio che una delle mie figlie ha fatto appunto in Benin ha tirato fuori qualcosa in me che era assopito, qualcosa che era latente e che è bastato una scintilla per portarla in superficie e la conoscenza del professore Di Salvo non ha fatto altro che avvalorare tutto quello che era in me. Il fascino che quest'uomo ha suscitato in me ha scatenato tutta la mia energia, cose che io non sapevo di avere e che grazie a lui e grazie anche ovviamente agli altri soci della mia sezione stiamo tirando fuori un qualcosa di positivo anche perché noi abbiamo lavorato facendo studiare due ragazzi beninesi che si sono diplomati come ottici abbiamo grazie alle serate effettuate in questi anni potuto comprare tutta l'attrezzatura per allestire lo studio di ottico in Benin e grazie a Dio a maggio è partito il container con tutti questi attrezzi. Allora diciamo che, come si chiama questa sezione intanto? La sezione è sempre sezione di crotone dell'associazione Sorridi Conu Conu Africa Ollus.